C'è una grandissima novità a Bosco Nero, è un'esclusiva per tutta la provincia di Torino, per tutto il Piemonte addirittura perché iniziano i corsi di avviamento al musical e non poteva essere che così, ovviamente chi è di scena è protagonista. Sì, con grande orgoglio diciamo, anzi aggiungo perché ho un legame particolare innanzitutto con questa struttura che è appunto la MTS, Musical School, che è l'accademia dove io mi sono diplomato qualche anno fa e che poi mi ha lanciato nel campo, quindi pensare che dopo qualche anno porto un qualcosa di questa accademia nel paese dove per me tutto inizio è sicuramente un grande coinvolgimento emotivo prima di tutto. E poi è senz'altro una grandissima occasione proprio per il discorso missione, cioè far conoscere, avvicinare i giovani, quelli che come me vogliono intraprendere o cercare di capire se il musical possa essere davvero la loro strada e facendolo in un modo più serio, cioè studiando come se fossimo realmente in un'accademia professionale, studiando tutte quelle discipline che ci preparano tecnicamente ad essere poi idonei e a sostenere quei provini che poi sono, diciamo, il trampolino per accedere nel mondo dello spettacolo. Quando cominceranno i corsi e come fare per accedere? Allora, per accedere ai corsi basta semplicemente contattarci, ormai siamo anche su internet, abbiamo un sito internet dove potete vedere i dettagli del programma, basta semplicemente prenotarsi. Il programma lo potete vedere sul sito internet e si accede appunto solo su prenotazione, quindi è molto semplice. Partiremo i primi di ottobre, quindi manca pochissimo. È libero a qualsiasi età? Sì, noi prendiamo in verità dai 13 anni in su come fascia fino ai 18 che poi arriva l'anno in cui è ora di andare e sbarcare nella grande città Milano per accedere all'accademia professionale che poi è la parte più importante di un percorso di artista. Chi vuole partecipare a questi corsi deve avere perlomeno delle basi, deve avere già delle esperienze in senso artistico oppure no? Ma diciamo che noi accogliamo soltanto il talento e la predisposizione, poi non ci aspettiamo assolutamente di trovare persone già preparate tecnicamente, anzi aggiungo che è meglio averli grezzi per poterli plasmare secondo i programmi che comunque noi dovremmo seguire e che arrivano appunto dall'MTS di Milano. È una bella soddisfazione riuscire ad avviare questa attività nella tua Bosco Nero e soprattutto per un argomento, il musical che da sempre ti è nel cuore e che un po' ti è lanciato anche. Sì, sì, assolutamente. Devo dire che è sempre stato molto chiaro quello che io volessi fare nella mia vita. Da quando vedi appunto il primo musical tutti insieme appassionatamente ho visto e ho detto questo è quello che io voglio fare e l'ho fatto. Quindi so che se si hanno le idee chiare, se si studia in un modo serio si possono ottenere dei grandi risultati. E sicuramente qui a Bosco Nero, una realtà piccola come a Bosco Nero ma comunque si allarga anche fuori, è sicuramente una grandissima opportunità. Chi parteciperà a questo corso di avviamento al musical tra l'altro avrà anche una splendida occasione. Questo accadrà l'anno prossimo nei primi mesi dell'anno a Milano. Sì, esattamente. A febbraio chi parteciperà al corso di avviamento al musical MTS parteciperà a questo meeting nazionale quindi con tutte le scuole di avviamento al musical che prendono parte al programma di avviamento al musical in Italia nell'Accademia MTS di Milano, quindi un luogo di incontro dove tutti i ragazzi di questa fascia d'età si incontreranno e avranno modo di studiare con gli insegnanti dell'Accademia, quindi quelli che magari saranno i loro docenti un giorno qualora dovessero appunto frequentare questa Accademia. Ed è veramente un'occasione specialissima per loro perché per un weekend intero avranno modo di studiare a tutto tondo tutte le materie in un luogo sacro della preparazione al musical come potrebbe essere MTS. Una cosa che molti, il sottoscritto incluso, avrebbero voluto fare alla loro età e purtroppo non è stato possibile fare. C'è la novità assoluta appunto del corso di avviamento al musical qui nella sede di Chiediscena ma continuano comunque anche tutti gli altri corsi, sono sempre più numerosi, quasi impossibile nominarli tutti. Sono una serie infinita, tantissime le discipline, un po' per tutti i gusti e per tutte le particolarità, per le predisposizioni di ognuno. Certo, ma innanzitutto ci tengo a precisare che trattiamo veramente tutti i livelli, ci tengo a precisare che è nata l'associazione Chiediscena con i corsi di musical e di danza e i corsi di musical ad oggi sono sette, ci sono sette livelli di corsi di musical, veramente dai più piccoli, dai musical junior fino ad arrivare agli adulti, alle mamme che vogliono mettersi in gioco e cantare, ballare, recitare e fare, perché no, a fine anno un piccolo spettacolino, un piccolo numero al saggio di fine anno. Però non mancano i corsi di fitness, abbiamo Zumba, abbiamo Tai Chi, la novità di quest'anno, per carità esuli da me l'idea di metterla fra il fitness, mi è venuta in mente adesso, novità dell'anno, è un'arte marziale, c'è Pilates, c'è Zumba, c'è Yoga, c'è Power Yoga, novità di quest'anno e anche tutte quelle altre attività che ci accompagnano da sempre, quindi Hip Hop, Breaking, Video Dance e anche livello adulti per quest'anno, quindi sempre in continua evoluzione, in continua crescita e siamo molto contenti di questo. È una bella soddisfazione questa nuova attività che prende avvio proprio a Bosco Nero e da giovani locali. Sì, con grande orgoglio noi siamo qui a inaugurare questa nuova iniziativa a Bosco Nero. L'associazione Chiediscena ha tre anni, quindi un'associazione giovane, ma in questi tre anni è riuscita a raccogliere più di 130 iscritti, quindi credo che sia già questo un grande risultato e il fatto che adesso l'Accademia di Musical abbia scelto questa come sede unica nella regione Piemonte con l'esclusiva per la provincia di Torino, credo che sia davvero un motivo di orgoglio per l'associazione, ma anche per tutti i cittadini e per il nostro territorio. Mi fa piacere pensare ad una frase che durante la serata di presentazione dei corsi ha detto l'insegnante di chitarra, Andrea Baileni, il quale presentandosi diceva ai ragazzi che lo studio della musica, quindi lo studio dell'arte, lo studio di tutte le discipline richiedono fatica, ma questa fatica poi viene ripagata dalle soddisfazioni, dal fatto che attraverso la pratica di discipline musicali o artistiche, del teatro, della danza, si possa poi conoscere tanta gente, si possa viaggiare e quindi tutta la fatica poi viene restituita in soddisfazioni. Tra l'altro questo tipo di attività, l'associazione Chiediscena opera in una sede che da poco è stata ristrutturata e tornata un po' al suo splendore di una volta. Sì, è importante anche questo perché questo locale che ospiterà appunto i corsi e tutte le attività dell'associazione, nello scorso secolo era proprio il luogo di ritrovo, di aggregazione della gente del paese per le danze e per le feste, e quindi è bello che possa essere restituito un luogo alla propria cittadinanza e che anche lo stesso scopo venga recuperato. Quindi l'augurio è davvero che questo possa essere un luogo dove persone di tutta l'età, perché fanno i corsi per i bambini ma anche per i più grandi, possano ritrovarsi e serenamente condividere momenti di studio ma anche di svago.